Ieri abbiamo provato un bel po' di mazzi, oggi proviamo Mono Black, Mono Green e forse Mono Rosso. Allora, questa è una compagine di Mono Black che ho buttato giù, non ne ho idea se andrà o non andrà, ho inserito un paio di pezzi nuovi che bisogna vedere come si comporteranno. Speriamo che ci sia gente a giocare, perché al mattino qua in Italia è di là è notte, quindi ci sarà pochissima gente come al solito. Speriamo di poter testare un pochino. Allora, cosa vi devo dire di questo Early Access? A parte il disastro di Mono Red, che è palesemente più forte di tutti gli altri, non è stato un brutto Early Access in realtà, io mi sono divertito, però c'è Mono Red. E abbiamo avuto conferme e delusioni molto importanti, abbiamo confermato che Kaito purtroppo un gnoia fa, grande Ranals che la mette nel furgone, grande. Abbiamo confermato che purtroppo con Mono Red che gira Kaito non ce la fa. Questo sta giocando da ieri sera, comunque, complimenti. E gli altri bisogna vedere come si adatteranno a questo Mono Red iperveloce, perché è un Mono Red incredibile ragazzi, cioè non ho mai visto una sinergia come quello. Tra l'altro che belli gli sfondi. C'è una sinergia pazzesca in Mono Rosso di per sé da solo, quindi sinergie pericolose che vogliono dire anche impatti determinanti in Best of One, troppo determinanti in Best of One. Sì, questo sfondo è veramente meraviglioso, dato che puoi giocarci tantissimo, come vedi. E vedremo. Layline of Hope. Oh, vediamo se c'è un Life Gain Capricorn. Un Horde of Life Gain, perfetto. E noi abbiamo delle buone removal, però, se arrivo alle terre. Sheltered, sheltered, enduring. Beh, l'unica creatura che ha. Carta della Madonna, sheltered. Reacher, vai. Io guadagno vite. Ok, ha missato creatura. Andiamo a spottargli la mano ancora. Sheltered, sheltered, assoluterra, Myrrex. Però se attiva Myrrex noi lo spariamo prima che attivi, in teoria, una sheltered, no? Sì. Eh, c'è tutto di nuovo nell'Early Access. C'è tantissima roba figa. Cucco. Tanta roba. Veramente tanta roba. E il problema vero è la Layline rossa nuova. La Layline rossa nuova è veramente tanto problematica. Vabbè, qui abbiamo fatto tripletta di Deep Cavern. Penso che la partita sia finita. Cioè, o top deck ha una varatta. O ha letteralmente zero risorse in mano. Vorrei provare le carte nuove che ci sono nel mazzo, però. Vorrei. Vorrei provare le carte nuove che ci sono nel mazzo. Sì. Quindi è una combo. È purtroppo per lui, però... Arriva un po' tardi. Questa combo. Vi dico che questo poison ce lo possiamo anche prendere. Gli diamo l'incantesimo. Però poi passiamo con le creature. E... Boh. Vedremo. Niente, le carte sono sparite. Le carte nuove. La terra, se l'anima, la spariamo. Eh, però Cucco... Cioè, non si può giocare a standard in quella maniera lì. Nel senso che se le percentuali sono molto alte di probabilità che lui abbia quella combinazione lì, ti assicuro che rispondere sempre di removal è difficile. Molto difficile. Molto, molto difficile. Mi fa bolt? Ah, mi fa... No, mi ha fatto Boros Charm, qualcosa lì. Ok. Però adesso purtroppo per te... È finita. Mi avrei voluto provare le carte nuove, però vabbè, faccio. Vai. È un po' tanto opprimente. Il problema vero che mi preoccupa è che in best of one... Cioè, è che non guardano il best of one per bannare carte. Quindi, il problema vero è proprio che quella potrebbe rimanere fissa in B1, se in best of three non è opprimente. E in B1 lo è tanto. In B1 lo è tanto. Quindi, non lo so. Allora, qui Mononeuro ha vinto senza carte nuove. Aggredendo e basta e giocando con i pipistrelli. Quindi, non è stato un buon test. Il problema, ragazzi, è che se non guardano il best of one e se in best of three quella non si gioca, è praticamente inutile parlarne. Nel senso che quella in best of one sarà giocatissima. E come ci si set up contro quella carta lì? È molto difficile adesso, eh. Perché non è che ci siano tante carte che rispondono a creatura 1. Ci sono le cut down che però non puoi fare a un the draw. Perché se le fai a un the draw e non di primo, hai perso. Ci sono... C'è la nuova removal bianca che restituisce il 2-2, che ieri si è confermata forte. E ci sono solo le removal a 2. Quindi, boh, sarà difficile. Sarà molto, molto difficile. Oggi aspettiamoci tanti tempi d'attesa, eh. No, Cuslo, il problema vero di questo early access che potrebbe essere uscito, o poi chissà se si confermerà così o non si confermerà così. E adesso ti faccio vedere quale carta è. È questa carta qua. Questa carta qui. La ley line rossa. Questa qui. La ley line of resonance. Quella lì è proprio una carta... Che in questo momento sta rompendo tutto. Quindi, boh. Le altre non si sono praticamente viste. Le altre sono tutte superplue. Forse quella nera si giocherà tanto in BO3. Però, in E.A. non se ne sono viste altre. Per ora. Cos'è? Ah. Ok. Eh, oggi ci saranno lunghi tempi d'attesa. Lunghi tempi d'attesa. Allora, facciamo così. In questi lunghi tempi d'attesa vi dico che registra un altro tipo di contenuto che è quello che avrei voluto fare stasera. Ma secondo me possiamo già farlo adesso nelle attese. ed è quali, secondo me, sono le carte più forti che hanno brillato in questo Early Access. Quindi preparo un po' di roba. E ve lo metto così intanto non stiamo qui a perdere solo tempo. Andiamo ad aprire Scryfall. E facciamo tutto. Allora. Allora. Questa ce l'ho già. Devo... Devo... A parte che possiamo usare questa. Ok. Allora. Allora. Per ora ve lo dico subito. le carte che mi sono piaciute di più, ma proprio piaciute proprio a livello di gusto e di potenza e di utilità, sono queste terre qua. Queste sono incredibili. Cioè, veramente tanto, tanto incredibili. Nel senso che vanno veramente d'accordo con qualsiasi cosa. È facilissimo fixare, ma proprio tanto facile fixare con queste. Non hai quasi mai difficoltà ad avere doppio colore. Basta che giochi una basica in più e queste vanno da dio. Fanno gli splash in modo perfetto. Queste qui verranno giocate in Storic, in Pioneer, a conferma di quello che dicevamo già prima. Sono veramente delle terre molto, molto forti. Per fortuna non c'è quella Boros, perché se ci fosse stata anche quella Boros in questo momento, secondo me, Boros Forgia o Simil Deck sarebbero stati incredibili. Belle. Cioè, per quello che le ho potute provare, sono state veramente top terre di Magic Arena. Mi ricordano tanto le Shockland. Sono più forti delle Checkland, senza dubbio. E per standard, veramente vanno a creare la possibilità di creare qualsiasi combinazione di colore e giocarle. Quindi questa cosa mi è piaciuta tantissimo in questo Early Access. Ma proprio tanto. E secondo me sono... Già solo per queste l'espansione vale la pena. Tanto. Tanto, tanto. Mano interessante. Dimira starà testando Kaito? Può essere. Fortissima. Sì, in Animator l'ho già giocato, Cucco. È bello. Però penso che sia un mazzo prettamente bio 1. Penso che sia un mazzo prettamente bio 1, Reanimator. Early Access e Early Stream, esattamente. Eh, ma devo fare un sacco di contenuti su questo EA. Ok. Eh, ma c'è Liliana giù. Cioè, se anche mi togli qualcosa, Liliana non la restituisce subito, oppo. Vabbè. Dammela, va. Vedi che stanno testando Kaito, ma... Io ve lo dico, Kaito non ce la fa. Troppo lento. Troppo, troppo lento. È un formato troppo veloce per Kaito, questo. È un formato troppo veloce. È un formato troppo veloce. Non ce la fa Kaito. Grande elusione, eh. Gran, grande elusione. Dopo parliamo anche di Kona, Cucco. Grande elusione. Grande elusione Kaito. Va bene. Vediamo se possiamo registrare ancora il video. Allora. Altra carta che si conferma molto, molto forte fino a questo momento. È lo Spawn a Token. Questa l'ho provata in due mazzi diversi. In tutte e due mi è piaciuta. Quando sei on the play è un treno merci questa carta qua. Perché ti basta un 1-1 e cominci a fare... Grazie Dracula! Grazie mille per il settimo mese. Cominci a fare un botto di roba, veramente. E poi fa da finish da sola. Quindi puoi bypassare i control dove non hai bisogno di castare una virtù in late game. Se arrivi a fare questo 6 mana e hai continuato a spawnare token, 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 token. Questa vince letteralmente da sola. Il problema di questa che ho riscontrato è che a volte non la vuoi enablare ma... Cioè non riesci ad enablarla. E da sola non si auto-enabla. Quindi hai bisogno sempre di qualcosa che la giustifichi. Quindi io l'ho giocata in due per nei mazzi. E mi è piaciuta tanto. Questa è tanto forte. Ciao nonno. Questa è tanto tanto forte ragazzi. Questa mi ha confermato la sua potenza. Bisogna capire se va messa sia on the play on the draw. Magari in best of three si toglie on the draw. Non lo so. Non è veramente una carta molto forte. Molto molto forte. Molto molto forte. Ok. Toglie Liliana. O toglie il pipistrello Liliana. Dipende se vuole swingare con Kaito. Ok vuole swingare con Kaito. Adesso fa Kaito. Eh però vedi non puoi fare Kaito con questo. Effettivamente non è una grande scelta. Però qui mi fai counterspell allora sul... Sul to... Sul walker no? Non puoi lasciarmi fare... Non puoi lasciarmi fare tutto. Perché se ti faccio walker ti toggo un Kaito se ce l'hai no? Boh. Vediamo. Eh Nico c'è l'early access. Ho anticipato un po'. Ho anticipato un po'. Bellissima è fortissima. Fortissima. Tanto forte. Tanto forte. Tanto forte da small counterspell. Ti sei fatto fare toxis gratis? Ah ok ecco perché. Ok. Ci sta. Ci sta. Vediamo se riesce a farmi Kaito. Il problema è che non può farmelo con questi pezzi qua. Perché se lo fa con questi va solo in perdita. Ma si è tappato dei pezzi strani per il suo mazzo. Troppo strani. Poi perché vai a perdere il 3-2 così? Beh è chiaro che ha counterspell perché c'ha... C'ha open di mana. Sempre due. No! Non counter qui? Non counter qui. Eh. Perché vuoi fare Kaito? Non counter qui. Ok. È tanta roba Nick. Per ora è il mazzo più solido. Più solido... È molto bello quel mazzo. Quando parte non fermi più. Ok. Quindi forse non ce l'ha Kaito in mano. Oh. Queste terre sono favolose. Favolose veramente. Favolose veramente. Ok. Ciao Lily. Io vorrei provare le carte nuove però. Se ci sono. Ma aspetta. Ma non mi puoi fare hittare con Tiny Bones? Quindi hai qualcosa. Mi fai hittare con Tiny Bones? Mi fai hittare con Tiny Bones e mi dai un blocco e mi fai pescare due? Grazie. Ok. Adesso basta per pescare però ci basta questo. Removal sulla sirena tua. Pesca due. Che bella. Ecco in gioco sono molto belle queste. Un Valgavot là dietro. Ecco Valgavot gran cessone di questa magia. Non serve a niente finché c'è Liliana ma poi è troppo scarso. Si giocano gli editti comunque. Non è che... Non Liliana Traxa scusate. Traxa. Gli impending sono tutti fortissimi. Non pensavo ma anche quello a rosso che fa quattro danni si gioca. Si può giocare. Azz GX Command. Va bene. Va bene GX Command. Però perdonami. Tu adesso non puoi attaccare. Perché hai attaccato se hai fatto GX Command qui? Sai che ha un'altra... Ah non lo sai che ha un'altra Liliana. Ah che inculata. Che fregatura ho un'altra Lilia adesso per te. E mi hai ridato Deep Cavern Bat tra l'altro. Non mi hai convinto in pieno. Non l'ho... Nessuno ha provato un Rakdos finora. Ma proprio nessuno. Lui ha Terra Animabile che ci ammazza Lily. Ma lui non ce ne frega un cazzo. Fare vantaggio carte è più importante qua. Ah non fa... Non ci ammazza neanche Lily guarda. Vai. Ragazzi, a mio gran malincuore proprio i mazzi Kaito non ce la fanno. A mio gran malincuore i mazzi Kaito non ce la fanno. Niente. Ah beh, quello Sacrifice. Sì sì, beh, Rakdos Sacrifice sì. Ma Rakdos Midrange come chiedeva prima no. A mio grandissimo malincuore Kaito delusione vera di questo sistema. Standard, poi chissà come sarà nei formati Eternal, ma in questo Standard... No. Facciamo l'ultima con Monoblack e poi cambiamo mazzo. Non lo so Atom, però in Standard è ingiocabile. Veramente tanto ingiocabile. Altra conferma di questo EA, il Signorino. Tanta roba, eh, lui. Lui puoi giocarlo in Enchantment, puoi giocarlo in Tempo, puoi giocarlo in... in Control, ed è tanto forte. Il problema vero è che se Monored rimane forte, questo non ci arriva a essere giocato. Nel senso che... rimane troppo fuori dalla curva del formato, perché quattro mana sono veramente, veramente tanti. Però nei mazzi Iri, che sono riusciti a gestire gli aggro, e che poi puntano a fare tanti pezzi, questo è un motore di pescata infinito. Tanta roba. Tanta, tanta roba anche questa carta qua. Ci è piaciuta parecchio. Il fatto che abbia Flash è incredibile. Avesse avuto volare sarebbe stato perfetto, ma... forte. Ma perché lui stesso triggerà Iri quando entra. Quindi... Veramente, veramente una bella bombetta anche questa. E non è detto che la fai sempre Flash, perché puoi farla anche pre-combat tuo, semplicemente per fare vantaggio e ci sta. O per triggerare gli Iri, quindi è tanta, tanta, tantissima roba questo. Questo è veramente tanta. Si è confermato molto forte. Invece, grande assente di questo Early Access è questa. Non l'ha provata nessuno di quelli che abbiamo incontrato. Nessuno ha provato a giocare con Vook. Tutti innamoratissimi di Mono Red, nessuno che prova a giocare con Vook. Croquiz. Croquiz. Quindi non l'abbiamo potuta testare lei per ora. È una manaccia questa, rispetto alle altre. Una manaccia vera. Oh no, Mirror di Mono Black? È malissimo, perché lui è partito con un pezzo che ci blocca l'unica rimozione che abbiamo. Fable Passage. Fable Passage. Chiny Bones. Fable Passage. Proviamo a stare fuori da Cutdown. Eccolo Rakdos. Ok. Sarà Rakdos Saka anche lui. Quella è un po' troppo direi. Vai. Quella è un po' troppo. Ok. È un buonissimo blocco. Lo spacchi. No, spacchi qua. Perché non è spaccato questo? Ah, perché non dice Artifact, dice Enchantment. Ok. E fai quello. Che blocca da Dio. Oppure fai removal su Deep Cavern e siamo nei guai. O entrambe, c'è anche il tesoro. Hidden, 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 hidden. Sì, possiamo farla. O K. Top malissimo. Top veramente malissimo. E vai. Fa terra, fa questo. No, gli manca un mana. Ok. Sacrifica questo adesso. Bellissimo che si possa riciclare così e manifestare anche. Tanto, tanto bello. Tanto, tanto bello questa cosa. Però anche questo, ragazzi, mi sembra un po' lento nei confronti di Monored, no? Non è un po' lento aspettare che si allineino gli astri e tu possa generare motore di sacrificio? Secondo voi in chat? Non lo so, mi sembra un po' lento anche lui per Monorosso. Grande Spunesia! Mamma, quanta invidia! Quanta invidia! Ok, Scoundrel? No, lo so, Stiglia, ma il problema è che non basta mezzo removal. Sì, sì, ma infatti sono d'accordo, eh, prof. Sono d'accordo con te. È proprio quello il discorso. Cioè, secondo me se è un mazzo bello e se tappato come sacrifice non riesce a stare dietro a Monored è un problema, tipo. Tipo anche questa, no? Che esilia, quindi è forte contro Monorosso e si neorgizza nel suo mazzo. Essendo a tempo strega, non so se ce la fa. Ma sì, GX è giusto che se ne vada. Ma la carta lì è fuori di testa, comunque, manifesti anche quando fai così. Attacchiamo con tutto, mi sa. Oppure, qui addirittura usiamo Hidden Necropolis. Ma sai che io posso anche fare terra, questo, combat. Se non ha removal su Teeny Bones o se non ci mette sotto un pezzo, ricastiamo un suo pezzo e poi facciamo Preacher. Ma il problema è che poi lui fa questa, quindi secondo me abbiamo super perso. Super perso. Eh, portafoglio come... Eh, no. Più toccato historic, no? Fa schifo, ragazzi. C'è Mardu Bombardament che è tier 1 assoluto e basta. E basta. Ok, ci sta. Ci sta. Tanto poi li riaimiti, ne frega un cazzo. Cos'è? Ok, così fai anche portafoglio. Gioca Forge, giustamente. Sì, ma questa è finita. Versissima. Vai. Questa combinazione è bellissima. È proprio bella. È proprio bella. Siamo con Monoblack, Rigo. Monoblack aggro. Ok. Terra. Con questo. Ma non la recuperiamo più perché lui basta adesso attivare questa e rifà tutto il cimitero che ha. E sono creaturine ma sono tempi, blocchi, c'è la forgia giù, c'è la terra animabile che ci blocca. La vedo abbastanza dura. Poi gli basta un removal su questo e si riprende questa, cioè. Siamo sotto tutto. Sì, beh, il cimitero è mea prende i T-Bones. Non prende un granchetto. Eh, certo. Ci sta. No. Dal tuo cimitero, dice. York Raiard. Ecco, adesso hai un botto di blocchi. Un botto vero di blocchi. E dove dovrei pescare sci... No, il demone. Qui il demone se lo pesco, che fa... Tutti i volanti fanno quattro danni, è molto forte. Però, quanta possibilità c'è di pescarlo qui? Non lo so. E poi lui comunque ha quel più o meno uno. Secondo me... Siamo super morti. Insisto che siamo super morti. Super, super morti. Ok. Perfetto. Uno lo togliamo prima. No, niente, non l'ho fatto. Tutti e cinque. Tutti e cinque. Ok. Ciao, Dark. Top, male. Top, male. Oh, Mark. Eh, studiale un po' le carte. Ci sta a prepararsi un po' per il Sealed, no? Però, ragazzi, confermo che secondo me questi mazzi qua, se non si armano di tante removal in Best of One contro Mono Red, noi affanno. Com'è questo Duskmon? Rotto. Tanto rotto. Tanto rotto. Tanto rotto. Ah, grande, Mark. Tanto rotto questo Duskmon. Perza! Che cosa va a prendersi come ultimo pezzo? Vediamo. Ciao, Maverick. Mono Red Liner è quasi passibile di ban addirittura, nei G. se funziona come ha funzionato in questo Early Access. Va a rifare quella. Beh, direi che hai vinto. Siamo morti. Non penso di avere neanche un top deck, tra l'altro. Eccoci qua. Eccoci qua. Eccoci qua. Eccoci qua. Quindi triggerà il doppio dei GG. Bella partita, bella. Bella tanto. Bella tanto. No, sacca! Vabbè, prima deve perdere due, poi sacrificare, certo. Dai, sei little! Sei little! Sacchi qua, sacchi qua. E questa. E questa. E questa qua. Sono sei. Ma, ancora? Adesso mi sparo io. Mi sparo io. bella. Bella. Bello. Ecco, quello è l'unico ragdos viable che c'è, che è il sacrifice, però. Mid range non ha giocato nessuno. Sì, ci siamo già trovati tre volte, GTA Wii. Bene. Abbiamo testato il mono black. È solido, nel senso che è sempre il classico mono black. Sembra che le carte nuove non servano. Più che altro. Poi. Grazie. Grazie.